Mi avete chiamato? Lui è Carter, le ha appena prese da un uomo che è il doppio di lui. C'è molto sangue in peritoneo e una lacerazione della milza. Ah, ci vorrà un po' per sistemarlo. Beh, ho detto di volersi sporcare le mani, così. Ah, bene. Dove credi di andare? Non mi servono ore al traumatologico, ma in neurochirurgia. E devo finire l'articolo. No, tu non vai da nessuna parte. Boki, c'è ancora la mia playlist? A tutto volume. Boki, c'è ancora la mia.